Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego dove trovare quella maschera della scintipietra del Besavio molto semplice, è una faccia di cazzo a due facce scusate tanto per la parola ma dovevo dirlo perché certi stregoni sono infami per la loro magia quindi dirigetevi qui in questo posto percorrete tutta questa strada per fortuna mi ricordo anche tutta la strada che ho fatto per trovare questa maschera questo è il mio secondo viaggio sembra che ho quasi finito tutto non lo so perché veramente mancano ancora parecchie cose quindi adesso vi lascio al video e ci vediamo direttamente lì dove ho preso la maschera perché la maschera ti aumenta anche di intelligenza più serie quindi buona visione grazie a tutti 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 eccoci arrivati dirigetevi da questa parte uccidete questo granchio che si illumina qua quindi ragazzi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo lasciate like se il video vi è stato veramente utilissimo iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi tutorial su Elder Ring quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao